Azzerati, dopo la simpe di calma, che guarda, si è parte, si è parte di testa, si è risposto, vediamo anche che vede con il forte, come noi ha supporto parte di Anna Puglietti, è riuscito però a mantenere la posizione, la quarta posizione, vediamo chiaramente adesso, come avevi anticipato, Giovanni, sono tutti vicinissimi, come ti è abbastanza velocità, c'è un'ora che è rimasta adesso, visto in l'erba, Ecco le inquadrature, tu puoi partire dalla quarta posizione, come Pettico, per l'avanti a Rodriguez, la Puglietti si è parte di appena di qui, la Puglietti si è parte di appena di qui, il caldo del caldo è l'intanto con 64, bene, sono le due vetture del tipo, Il problema è vicinissimo, è ancora l'integno da parte, sta perdendo terreno, Gerdunca, Fede, Contro, su un governo di Ciccola. La regia intanto ci stiamo sapermente a Tobi Sussow eri cercando di siרךbro per la posizione in 23-20 secondi, intanto allo scadere del tempo regolamentare, quindi verrà concluso questo giur. Poi ancora un altro, c'è veramente tanta bagarre, una decante scelte grazie alla ricerca della certificare che ha compattato i gruppi, quindi Leonardo Torani è riuscito a sorpassare tutto questo, dopo aver doppiaggiato un po' le condizioni che c'è di centro 4G, che è di prima fare, da ricostruire il Degap e tanto il Degap sarà un po' qui nel primo giro, siamo nelle fasi davvero decisive della gara, tutti fatti, tutti fatti comunque sono bravo a riuscire subito un certo vantaggio, un secondo sette su Leonardo Lorandi, vuole a molti costi questa vittoria, ma è stato bravo Leonardo Lorandi a non perdersi d'animo, ecco, lo vedete, è squadrato davanti alla vettura di Pienzer, poi Gianna Rodriguez che dopo essersi liberato di Gianluca Petticov sta andando a avvicinare i fuggettivi, ecco la con la livrea verde, Gianna Rodriguez e poi dietro il gruppo davvero ormai compatto, sono veramente bravi come dicevi Giovanni a non darci, non si può fare, 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 si può fare. Questa è la loro nuova di casa, grande sublimiano Enzo Fittipaldi, intanto si sta preparando per andare a cogliere la sua prima vittoria nel campeonato italiano di Formula 4, vice campione dei Zufissi allo scorso anno, è cresciuto tantissimo, e va a conquistare quindi il primo posto davanti a Leonardo Lovanni, la terza posizione di Federico Palmestini, poi Diana Rodriguez, Tobin Soveri, Giardino Tappetico, Sesta Piazza, Olvi Caldwell, Sadie Gonzales, William Alacalo e poi Peter Vlacek, un giorno Carrara che ha fatto una bella di posto perché era partito un po' in piedi, mentre è davvero un po' vacca la prestazione di Gregoire, il dominatore, dei test collettivi. Ecco, è Cio Fittipati che può fare il suo giro, un onore, davvero bravo, è stato un ottimo stratega, è riuscito con grandezza a mantenere la prima posizione anche quando ha sentito il piatto un po' dopo la partenza della stagione, come mancava con pochi minuti allo scadere del tempo regolamento. Grazie